Allora signori, qui è il pet e ora andiamo a prendere Zala e la gang del Bofan a sbrer biori. Non vedo niente e ci vediamo. Recuperato uno, Zala. Marco, a distanza di un anno intero, vero? A distanza di un anno e qualche giorno, oggi il 21 dicembre. Tornati qua col mezzo, hai fatto modifiche? Ha pulito le gomme. Scusate, mi fa casino. Non c'è un problema. Allora intanto come puoi ben vedere gli ho montato le gomme che adesso hanno mezzo pollice in più. Eh, si vede, si vede, si vede. Si nota, si nota, si nota. Poi l'anno scorso erano 125. Sto anno? 126. 300. Yeah. Un 300. Poi avere le manopole. Non dobbiamo fargli dire a lui le modifiche. Ah, uno che se ne intende e che arriva fra un po'. No, però la facciamo così, io adesso le dico, vediamo dopo le note a lui. Ah, va bene. Poi come puoi ben vedere il reato è che mi dava fastidio avere entrambi i cosi aggiustati, uno l'ho rotto. Hai fatto bene, ti posso dire. Perché sbaravano avere entrambi i cosi aggiustati. Guarda il sunset che sta arrivando. No, non è ancora ora di sunset. No, no, dopo c'è il sunset. Dopo tu fai la scena. Marco, guarda che sunset. E' un bastardo. Guarda che sunset, Marco. Era solo uno scherzo. Che sunset. Eccolo. Ma che bella rete. Ma che bella rete. Che bella rete. Eccolo del cantiere, bro. Vedi che è quella tipo che metti sotto. Tra bello. Dopo ti faccio tiraggi. Clip, bro. Ok, in mezzo. Tommy Shelby. Tommy Shelby. Sono Tommy Shelby. Eccolo qui. Ciao, raga. Guarda, Anna. Aspetta, Marco, butto un'immagine di sto Tommy Shelby qua a fianco. Ciao, belli. Simone. Ciao, Tommy. Che salsa. Che sbarro. No, dopo, dopo. Vedi che la sanno tutti. Eccolo qua, Samuele. Appena arrivato. Cosa ti avevo da dire sull'entrata di Samu? Secondo me è elettrico lo diciamo. Sì, sì, ma faceva più rumore una volta. Facciamo il foglio verticale. Samuele, sei interrogato. Sei interrogato, Samuele. Allora. Facci vedere. Facciamo i miei capelli, però vabbè. Adesso. Facci vedere le modifiche che Marco ha fatto al quad durante... Ha portato. Ha portato. Ovviamente lui non è al corrente che l'abbiamo detto prima. Esatto. Le modifiche che Marco ha portato al quad durante quest'anno. Faccele illustracele. Grafiche. Spara. Grafiche? È vero. Dove, Fra? No. È vero? No, no. Lo sta effettمة è. È vero in Shadow? È vero? È vero? È morta a ***? Male! No, è morta a ***. Vabbè, che cosa... Allora grafiche penso perché non me ne ricordo così... Sì. Grafiche. Vuote. Uh! Uh! Oh! avvertimento poi specialista prima sull'uso aspetta cazzo dammi il tempo bro hai fatto un giletto cos'hai sentito? hai fatto modifiche sotto vabbè basta rivediamogli le cose non ho modificato niente ma le ruote e le grafici però resterà sempre il nostro meccanico è grave che mi sembrava di avere se anche l'uomo allora cosa sa? vai è allora signori abbiamo appena finito di giocare a calcio guarda il sunset Marco vieni qua che facciamo la clip c'è cagato addosso Zala vai piano io sono matto Marco guarda che sunset guarda guarda che sunset sì che mi tengo ma sono giù che spola vieni più avanti ciao ciao Zappo benvenuto nel video ciao è arrivato anche il Zappo ragazzi eccoci qua ecco gli spedicolati ciao 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 Sì Siamo un vlog Siamo tornati dalla montagna Un saluto a Oid Un nuovo innesto Coro di ciabatta Zorzi Cosa fai? Siamo quello che gioca la rayer Certo Angeline Mago È il continuo del vlog Siamo appena tornati dalla montagna Capitano fai vedere la maglia All Kings di ieri sera Però non hai fatto video mi sembra Ieri Apple Kings Non tutti stanno benissimo Sì Non mettiamo clip perché E adesso troviamo qua Al palazzetto Tutti i soci Sono uno in più loro Non se ne frega un cazzo Al momento Bene E adesso ci troviamo qua per una parte fina Per scaricare il Kings Hai ragione Hai ragione Hai ragione Hai ragione Non c'è la mano Non c'è la mano Non c'è la mano Non c'è la mano Oh Buonissimo 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 Uh Uh Venga Siamo Siamo Eh Dai Piaggio Sì cazzo Oh Buonissimo Eh Piazza Piazza Porta Cazzo Sì cazzo Sì cazzo Signori, buon Natale, buon Natale, buon Natale, buon Natale ragazzi, buon Natale Allora Samu, tu che c'è l'orologio, fai vedere veramente che è Natale Lunedì 25 Voi poverelli, poverelli, ci balliamo la fresca Noi ci balliamo la fresca anche a Natale Siamo 90, mi marisco io che però essendo a Natale, al completo di Gesù si potrebbe sembrare un po' di meno Hai ragione Hai ragione Bella ragazzi, signori, signori, siamo qui Bellissimo Ma dove siamo? Noi ci troviamo a Porek In italiano? Parenzo, Parenzo Parenzo, Croazia Per un torneo di palacanese Per un torneo cestistico Ci interessa ben poco, ma ci interessa l'hotel che è una bestia Saranno quanti metri quadri? Saranno al minimo, minimo 10.000 metri quadri È una roba immensa, sembra un ospedale 10.000 metri quadri Deficienti 10.000 metri quadrati? Facciamo Quanto E' oggi la mattina, la notte Allora, se calmo svegliamo 5,5 Adesso abbiamo una partita contro Svizzoli? Lugano Contro la patria del Maseo Ma contro il Maseo è vero Perché? Che buoni che sono i Ferrero Rocher Ragazzi 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 Un picciona Nick Un picciona Un picciona Prima parola che ti viene in mente Un picciona Un picciona Un picciona Un picciona Ragazzi siamo qui nella hotel Nella lobby Vero che siamo nella lobby Vero Nick Ma qual è la novità di questo vlog Qual è la novità Ci sono più giorni No La novità La novità è molto più nascosta della vita che sei Che cosa ho detto Il controllo Mettiti il profilo fra Luce Perché la qualità è migliore Notate qualcosa addosso Asco? Notate qualcosa addosso Asco? Notate qualcosa addosso Asco? Aspetta indizio 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 Dio Il pizzo Chiede il pizzo Asco Questa è la situazione a Vicenza ai 7 della mattina Questa è la situazione a Parenza ai 7 della mattina Dime se si può lavorare Ci sta a giocare alle 8 Vero? Possiamo andare in NBA se non giochiamo alle 8? No Se ci giochiamo? Si Ah Non è una diversa Tanto Anche se giochiamo un allenamento in meno In NBA non ci andiamo lo stesso per la montagna PORCAUTANO ZIO Stiamo in costume noi Si si Vai Asco Vieni sullo specchio Vieni sullo specchio Qua Buona 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 Sienilo 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 Mi sento una traga Eh coglioni Porca puttana Mi sento una puttana Dai raga un po' di palestra Un po' di palestra qua Un po' di palestra Marco un saluto da PORC Ci si Ci si becca nella city Buongiorno Buongiorno Che freddo stanotte Stanotte C'è Marco C'è Marco C'è Marco Fuego 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 Viaggio di ritorno con i Pioi Anjo che si guarda sempre la casa di carta cos'è Sì 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 11 Come 10 Veramente 8 7 6 2 3 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 6